Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici IlCurso e benvenuti a questa puntata speciale edizione Solaris Week della Fisica che non ti aspetti. Finalmente la Solaris Week è arrivata. Se non sapete che cos'è la Solaris Week, guardate qui sotto nella descrizione del video troverete tutte le informazioni necessarie. L'argomento di cui voglio parlare prende spunto da un passaggio del libro Solaris naturalmente che vado a leggervi, anzi a tradurvi dall'inglese visto che il libro io l'ho trovato in inglese quindi cercherò di fare del mio meglio. Naturalmente si sta parlando dell'oceano, di questa misteriosa forma di vita che abita il pianeta Solaris e che senza spoilerarvi troppo della trama è in grado di costruire alcune misteriose strutture chiamate simmetriadi. Ecco, proprio riguardo alle simmetriadi, un rapporto di uno scienziato, di uno dei solaristi del passato recita così. A volte l'aria smetteva di condurre il suono al loro interno delle simmetriadi. A volte il coefficiente di rifrazione aumentava o diminuiva. Avvenivano impulsi localizzati e variazioni ritmiche della gravità, come se le simmetrie deve essere un cuore gravitazionale pulsante. Talvolta i girocompassi degli scienziati iniziavano a comportarsi come se fossero impazziti. Strati di intensa ionizzazione apparivano e scomparivano. Quindi, qual è l'argomento del video di oggi? Oggi cercheremo di dare la risposta a questa domanda. È possibile cambiare le leggi della fisica? Ma prima di rispondere a questa domanda, conviene rispondere a un'altra domanda. Le leggi della fisica sono uguali dappertutto? E se sono uguali dappertutto, sono sempre state così come le conosciamo adesso? Naturalmente non sto parlando delle nostre conoscenze della legge della fisica. Non sto parlando delle teorie che l'uomo ha sviluppato nel corso dei secoli. Quelle ovviamente cambiano in funzione dell'evoluzione della nostra conoscenza di ciò che ci circonda. Parlo proprio delle leggi alla base, alla base della fisica, alla base del funzionamento dell'universo. Sono sempre state le stesse? Sono uguali in ogni punto dell'universo? Può sembrare una domanda piuttosto balsana, piuttosto azzardata, ma in realtà non è la prima volta che viene posta e sicuramente non in ambito fantascientifico. Persino Dirac, uno delle figure più eminenti della meccanica quantistica, si chiese, osservando come la forza di gravità fosse tante, tante, tante volte più debole rispetto alla forza elettromagnetica, se per caso questo non fosse dovuto al fatto che la costante di gravità è andata diminuendo nel corso dei miliardi di anni dall'inizio dell'universo. Ma cosa significa cambiare le leggi della fisica? In che modo possono cambiare? Diciamo che esistono due modi. Uno potremmo definirlo un modo più drastico, o se vogliamo un modo alla solaris, una variazione che modifica in maniera sostanziale la relazione tra le grandezze fisiche. Prendiamo per esempio una delle prime equazioni in cui ogni studente si imbatte nei suoi studi liceali, l'equazione della gravità secondo Newton. La legge di gravità secondo Newton stabilisce che la forza di gravità, cioè la forza con cui due corpi si attraggono, sia proporzionale ad entrambe le masse degli oggetti. Questo vuol dire che la forza con cui la Terra attrae questa pesca, che pesa più o meno un etto e mezzo, è all'incirca 570 volte più piccola della forza con cui la Terra attrae meh, che invece pesa più o meno 86 chili. E qualcosina di più. Vabbè, scherzi a parte. Il fatto che la forza di gravità, cioè il peso di un oggetto, aumenti in proporzione alla sua massa, ha una conseguenza importante. Tutti gli oggetti sulla Terra cadono con la stessa accelerazione di gravità. Quindi non importa se accadere è questa pesca, oppure il sottoscritto, oppure un aeroplano. Cadremo sempre con la stessa accelerazione di gravità. Ma adesso cambiamo un attimo le carte in tavola. Scriviamola in questo modo. La forza ora non è più proporzionale ad entrambe le masse, ma solo alla loro somma. La conseguenza è drastica. La somma della massa della Terra più questa pesca non è sostanzialmente diversa dalla somma della massa della Terra più la mia. Questo ha una conseguenza molto insignificativa. Infatti la forza peso con cui la pesca è attratta, o con cui io sono attratto, o con cui un aeroplano è attratto, è sostanzialmente sempre la stessa. Tutti gli oggetti peserebbero uguali. Avrebbero tutti lo stesso peso. E volete sapere qual è la conseguenza di questo? Che gli oggetti cadrebbero con un'accelerazione che è tanto più piccola quanto più sono massicci. Insomma, vorrebbe dire che una balena in caduta libera cadrebbe con un'accelerazione più bassa, più lenta, di un vaso di petugne. Ovviamente una variazione del genere, questa variazione alla Solaris, è davvero drastica e molto significativa. Sarebbe probabilmente molto facile accorgerci anche a grandi distanze che la legge di gravità, per esempio, altrove nell'universo è scritta così. Quindi è più probabile che una eventuale variazione delle leggi dell'universo avvenga in maniera più subdola, in maniera più sottile. Le leggi della fisica si basano su una certa quantità di costanti e parametri numerici. Basta prendere un qualunque manuale di fisica e di solito nella seconda o nella terza di copertina trovate un bel elenco di costanti fisiche con i loro valori. C'è la costante di gravitazione universale, c'è la costante di Planck, la massa a riposo dell'elettrone, la velocità della luce. Ce ne sono un numero enorme. Ebbene, cosa succederebbe se una o più di queste costanti non fosse davvero una costante? Cosa succederebbe se i valori misurati qui, sulla Terra, ora, fossero diversi da quelli misurati su Proxima Centauri, o ai confini della galassia, o in un'altra galassia? Oppure semplicemente i valori misurati un miliardo di anni fa? Beh, probabilmente non cambierebbe tantissimo a livello di comportamento generale. Se la costante di gravità fosse più grande o più piccola, magari di poco rispetto al valore attuale o al valore da noi misurato, i pianeti e le stelle orbiterebbero sempre uno intorno all'altro con un'orbita ellittica. Semplicemente cambierebbero le distanze. Ma capite che potrebbe essere molto, molto difficile accorgerci di questa piccola differenza, magari da centinaia di migliaia o di milioni di anni luce di distanza. Tuttavia, non è un problema da sottovalutare. Infatti, non c'è nessuna teoria scientifica che ci garantisca che le costanti fisiche siano costanti nello spazio e nel tempo. È una nostra convenzione, una nostra comodità. Pensate che confusione dovrebbe descrivere l'evoluzione di un universo in cui le regole del gioco continuano a cambiare, anche se solo di poco. Per questo motivo sono state condotte molte osservazioni negli ultimi anni e ve ne posso citare alcune. Per esempio, il Green Bank Telescope, in collaborazione con il Radiotelescopio di Monte Arecibo, ha studiato per 21 anni circa il comportamento di un sistema binario lontano più di 3.700 anni luce da noi. Questo sistema binario è costituito da una stella di neutroni e da una pulsar, un particolare tipo di stella che emette impulsi con una notevole regolarità. Lo scopo di questa misurazione era misurare la costante di gravità in questo sistema. Ebbene, il risultato di queste misurazioni parrebbe essere che la costante di gravità è uguale qui sulla Terra, così come in quel sistema binario. Ma non è l'unico studio effettuato. Sono stati avanzati i dubbi anche sulla costanza nel tempo della costante di Planck. Per verificarlo, la California State University ha condotto un esaustivo studio sul comportamento degli orologi atomici montati sui satelliti in orbita per il GPS, per il Global Positioning System. Però anche in questo caso non sembrerebbe esserci nessuna variazione di rilievo. Tuttavia, alcuni osservatori in giro per il mondo avrebbero osservato una variazione nel tempo della cosiddetta costante di struttura fine, una costante che di fatto rappresenta il rapporto tra diverse altre costanti fondamentali, tra cui proprio la costante di Planck. Tuttavia non ci sono ancora sufficienti prove per verificare questa effettiva variazione. Quindi, per quanto ne sappiamo, sembrerebbe che l'universo si sta comportando bene. Le costanti universali sembreranno essere veramente delle costanti sia nello spazio che nel tempo. Ma veniamo a noi, veniamo alla domanda di inizio video. Le possiamo cambiare queste leggi della fisica? Beh, naturalmente nel campo della fantascienza tutto è possibile, però c'è da fare tanti distinguo. Ovviamente ci sono libri e film di fantascienza in cui le leggi della fisica vengono prese, accartocciate e gettate nel cestino. Ma ce ne sono altri che invece cercano di descrivere queste eventuali variazioni in maniera un po' più rigorosa, un po' più scientifica. Ed è il caso, ad esempio, del romanzo Neanche gli dei di Isaac Asimov. In questo romanzo il nostro universo entra in contatto con un universo parallelo in cui la forza di interazione forte, quella che, per intenderci, tiene insieme i nuclei atomici, è molto, molto più intensa rispetto che qui da noi. Ma questo contatto, che all'inizio diventa una fonte di energia per noi, peraltro una fonte di energia descritta in termini scientificamente molto razionali, alla fine si rivelerà un'arma a doppio taglio. I due universi, come due vasi comunicanti, cercheranno di trovare un equilibrio, una forza di interazione forte e comune, con conseguenze potenzialmente devastanti per entrambi. Ma non vi spoilerò il finale. Ok, 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 d'accordo, abbiamo parlato della fantascienza, abbiamo detto che nella fantascienza può succedere tutto, c'è la sospensione dell'incredulità, tutto quello che volete. Ma veniamo veramente alla realtà dei fatti. Le possiamo cambiare queste leggi della fisica o no? Correva l'anno 2007, o almeno mi pare, e giunsa agli onori della cronaca per un breve periodo di tempo, e aggiungo per fortuna, la notizia che i professori Carpintieri, Mignani e Cardone erano riusciti ad ottenere l'incredibile. Avevano infatti pubblicato alcuni dati, secondo i quali applicando degli ultrasuoni ad alta intensità su un blocco di granito, era possibile ottenere della energia che derivava, secondo loro, dalla fissione nucleare dei nuclei di ferro, contenuti nel granito appunto, in nuclei di alluminio. E la causa di questo era una distorsione spazio-temporale indotta dagli ultrasuoni nel reticolo cristallino del ferro, che portava a una diminuzione della interazione nucleare forte. Se tutto questo vi sembra una emerita stupidaggine, state tranquilli, non siete i soli. L'intera comunità scientifica si scagliò contro questi tre disgraziati, affermando, nel migliore dei casi, che avevano completamente sbagliato ad effettuare le loro misurazioni, e nel peggiore, semplicemente dicendo che i dati pubblicati erano falsi. Quindi, concludendo, purtroppo sembra che le leggi della fisica siano più robuste di quello che noi possiamo fare. Quanto meno non abbiamo ancora idea di come sia possibile modificarle, posto che naturalmente sia possibile farlo. Dovremo quindi accontentarci della fantascienza per sognare di mondi lontani in cui le leggi della fisica sono diverse da quelle che vivono qui sulla Terra, e dove sia veramente possibile fare tutto ciò che noi possiamo soltanto immaginare. Ragazzi, il video finisce qui. Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi ricordo di andare a guardare anche tutti gli altri video della Solaris Week. Io ve li raccoglierò nella mia playlist intitolata proprio Solaris Week, ma andate a vedere direttamente tutti i canali coinvolti, perché sono tutti canali meritevolissimi e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.